Giovedì 18 giugno, Sant'Erasmo e il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 196 Il sole sorge alle 5.22, tramonta le 21.05, la luna si leva alle 7.26, tramonta le 22.14 Il comune di Pieve di Cadore incarica Tiziano Veccellio di fornire un dipinto alla chiesa di Santa Maria Compenso pattuito, 200 scudi d'oro da pagarsi in legname Poco dopo viene corrisposto il primo acconto, 50 carri di grossi alberi del Cadore Le previsioni per domani In pianura a tempo variabile con l'alternanza di spazi di sereno ed annuvolamenti soprattutto per attività cumuliforme che dalle ore centrali interesserà in particolare le zone centro-settentrionali In montagna a tempo instabile con schiarite alternate a crescenti addensamenti nuvolosi in genere più frequenti e significativi Precipitazioni Probabilità sulle zone montane e pedemontane Si tratterà di rovesci e temporali sparsi che dapprima interesseranno alla montagna infine potranno coinvolgere anche zone di pianura Temperature contenute a variazioni di carattere locale tra cui si noterà una diminuzione dei valori diurni e serali in quota Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti